Oggi penso che sia una giornata molto importante per l'intero Consiglio regionale perché abbiamo approvato una legge che aumenta la cifra del sociale nella nostra regione. Dico questo perché abbiamo determinato una legge dove abbiamo sacramentato dei punti importantissimi. Penso al fatto che abbiamo alzato il livello di legalità sia nel momento dell'assegnazione che nel momento del controllo. Basti pensare che successivamente all'approvazione di questa legge sarà sottoscritto un accordo tra la regione e tutti gli enti preposti, le forze di polizia per fare in modo che ogni due anni ci sia un controllo su coloro che hanno i requisiti o meno per vivere dentro l'appartamento. Abbiamo aumentato anche la cifra del sociale riferendomi a che cosa? Al fatto che saranno garantiti anche i separati o i divorziati e saranno garantiti anche i figli minori per garantire a loro il diritto allo studio. Questa è una legge che non solo segna un passo in avanti per quanto riguarda l'assegnazione delle case popolari e la legalità che deve fungere da Stella Polare in merito a questa assegnazione. Ma alziamo anche il livello di controllo, di salvaguarda dei diritti e di dare precedenza agli onesti e più deboli nei confronti di chi invece vuole delinquere.